buongiorno a tutti amici e buon lunedì buon lunedì oggi fa freschino e quindi si sta in macchina col cappotto e a cui si sto buono anche perché io sono abbastanza freddoloso detto ciò parliamo un po' di quello che è successo ieri perché dopo la partita si leggono commenti eccetera eccetera e ho avuto la conferma del fantastico meraviglioso metaverso bianconero perché perché fondamentalmente in una partita come quella di ieri dove non è successo nulla dove non c'è stato praticamente nulla su cui discutere loro in qualche modo trovano il cavillo per poter discutere anche su cose dove non c'è discussione su cui non c'è nessuna discussione da fare e in particolare si sono attaccati al presunto fallo di darmian su chiesa nell'azione che porta al gol di lautaro martinez a parte il fatto che quello da qualsiasi angolazione la vedi non è fallo mai cioè c'è un'inquadratura frontale dove si vede chiaramente che darmian col braccio non tocca mai il volto di chiesa ma allarga il braccio per prendere posizione come fanno tutti i difensori e come fa qualsiasi giocatore e come fa chiunque abbia mai messo in un campo da calcio questi qua che hanno fatto hanno paragonato questo episodio a quello di ken contro il verona sul faraoni faraoni che ha fatto pietà nel fare quella sceneggiata sono d'accordo ed è da condannare ma lì comunque non è che ken allarga il braccio per prendere posizione la è una manata in faccia e la manata in faccia è una cosa diversa la manata in faccia è condotta irregolare quindi piaccia o non piaccia quello è fallo poi che faraoni abbia fatto schifo nel comportamento quello è un altro discorso poi c'è da discutere un'altra cosa c'è da discutere un'altra cosa poniamo caso che quello di darmian su chiesa sia fallo ovviamente non lo è ma poniamo caso che lo sia da da quel fallo al gol passano 17 secondi cioè l'inter recupera palla torna dietro va da sommer allarga il gioco e va in porta sono 17 secondi tra l'altro inizia una nuova azione perché appunto l'inter torna dietro e quindi ci hanno sempre raccontato che da protocollo var se non c'è conseguenzialità non può intervenire ma il vero scandalo il vero scandalo sarebbe stato annullare questo quello sarebbe stato se il rati alvarra avesse chiamato guida per l'onfield review meno male che non è successo perché ripeto quello sarebbe stato il vero scandalo calcistico e quindi vi ho raccontato un po il fantastico metaverso bianconero in una partita dove l'arbitro è stato il migliore in campo aiutato anche dall'atteggiamento corretto dei calciatori ci sono state soltanto tre ammunizioni manca un'ammunizione a Rabiot ma non è una cosa grave può capitare ma per il resto marco guida è stato veramente impeccabile anche nella coerenza della condotta di gara ha usato lo stesso metro di giudizio sia per l'inter che per la juventus a turam non gli sono stati fischiati un paio di falli stessa cosa a chiesa quindi su guida non si può dire assolutamente niente un'altra cosa però la volevo chiarire ai tifosi dell'inter perché stranamente non me l'aspettavo ho letto troppe critiche ma non per il pareggio in sé ho letto critiche sul fatto che l'inter non abbia provato a vincere la partita ora io posso essere d'accordo parzialmente su questa cosa perché che l'inter negli ultimi 15-20 minuti non abbia tentato e si sia accontentata questo è vero negli ultimi 20 minuti è subentrato un po' la paura di perdere ma ma se c'è una squadra che per tutto il secondo tempo ha giocato per pareggiare è la juve l'inter dal 45esimo del secondo tempo in poi ha sempre avuto il pallino del gioco ha sempre avuto il possesso della palla sempre ha creato una mezza occasione con turam ma ragazzi giocare contro una squadra tutta raccolta in 20 metri non è che è facile sì è bello dire l'inter doveva fare di più ci doveva credere sì è bello è facile a parole facilissimo però giocare contro una squadra tutta raccolta in 20 metri lì dietro non è non è la cosa più semplice devi far girare palla da una fascia all'altra gli spazi erano quelli che erano cioè erano veramente pochissimi per cui era anche abbastanza complicato ad allegri gli si può dire tutto che non gioca che è inguardabile calcisticamente parlando però dal punto di vista difensivo come difendono le sue squadre in 20 metri lo fanno pochissime squadre come coprono tutti gli spazi del campo quindi era complicato però ripeto negli ultimi 15 minuti è vero ci siamo un po accontentati ma mentre noi ci siamo accontentati dal settantesimo in poi e giocavamo comunque in trasferta loro si sono accontentati dal 45esimo in poi cioè loro sono scesi in campo nel secondo tempo per pareggiare la partita tanto è vero che nel secondo tempo non hanno fatto un tiro in porta ma non lo dico io lo dicono le statistiche invece il primo tempo è stato giocato hanno fatto un gollo loro un gollo noi l'occasione di chiesa loro noi l'occasione di turam di testa lautaro martinez insomma il primo tempo non è che è stato trascendentale però qualche situazione interessante si è vista invece il secondo tempo è stato assolutamente soporifero ma per colpa del loro allenatore che è sceso in campo non per vincere la partita se invece fosse sceso in campo come nel primo tempo giocandosela come ha fatto sicuramente avremmo visto una partita molto più aperta e molto più godibile per il resto non ho nient'altro da aggiungere volevo chiarire questi due concetti va bene così perché comunque un pareggio in trasferta con la juventus ci può stare non è niente di scandaloso anzi l'avevo messo anche un po' in preventivo poi ragazzi se volete per forza vincere tutte le partite questo non è possibile non c'è squadra al mondo che possa vincere tutte le partite quindi la prossima andiamo a Lisbona col Benfica in Champions poi andremo a Napoli quindi abbiamo una serie di partite comunque difficili quindi testa cuore e guardare avanti che la stagione è ancora lunga non ci disperiamo non ci allarmiamo perché veramente non ce n'è bisogno e vi dico la verità io sono talmente tranquillo di questa Inter perché abbiamo una rosa veramente forte che non sono preoccupato veramente l'Inter è forte e questa cosa mi fa stare tranquillo arrivederci ciao